Senti, a proposito di giovani, lei è comunque un personaggio uscito da qualche, già un decennio, se non di più forse, no? Sul, come dire, mercato internazionale. Le blogger, queste ragazze che hanno grande successo, tipo la Ferragne, però intanto, vedi, hanno un seguito straordinario di followers. No, fra l'altro, forse portano anche, senza forze, un afflato nuovo, una spinta nuova, anche sullo stesso mercato, perché, per esempio, Burberry, dopo la sfilata ha pensato di andare subito online con la vendita dei suoi capi. Questa pure è una novità come quella bisex di Gucci. Che ne pensi? Non c'è niente con me. E però sono le spinte della creatività giovane che porta anche a nuovi modi. Sono delle ragazze che prendono così le cose che credono che faranno presa sul pubblico. E poi fanno presa, eh? Fanno anche presa. Dipende. Va bene. Insomma, ne parliamo, diciamo, in attesa. Visto che ami il francese, an attendant, come si dice? In attesa, eh? Non di Godot, però. Non di Godot, ma di altro. Senti, allora, un saluto all'opinione moda e come mantenere questa forma di giudizio che non sia influenzato dal mercato, dal marketing, a volte anche persino dalla corruzione economica. Insomma, che cos'è la moda per te? Così sappiamo, visto dalla tua... Per me la moda era la mia vita, perché io avevo venti anni, venti e due, quando ho cominciato, e ho sempre vissuto di quello, perché la parentesi antiquaria, decorazione, così, che è stata una parentesi vera, invece la moda è stata la mia... Il richelieu della moda ti hanno anche definito, il richelieu della moda. Cioè, un po' difficile pure tu come Chanel, no? Io ho inventato delle soluzioni, ma c'era la storia della fiera di Milano, e quella è una mia invenzione, perché quando li ho portati da Firenze a Milano, e allora erano tutti poveri, non avevano soldi, non come adesso erano queste showroom meravigliose. E allora io sono andato in fiera con la quale lavoravo, e c'era il presidente, si chiamava Franzi, era un bellissimo signore, molto elegante, molto anziano, e io sono andato a trovarlo e gli ho detto, Presidente, io vorrei che lei mi desse un salone, un padiglione, un orgato, perché io poi ero giunto, io non ho soldi. Che era il peggio, penso, la richiesta va bene, ma senza soldi era peggio. Devo fare quello raccontato, lo dovevo fare con la moda e lo metterò bene. Per due anni vedo... È stata una svolta importantissima. Il made in Italy è nato, sì, le passerelle, il pret-à-porter, che tutti arrivano a Firenze, sono vero. Dall'alta moda al pret-à-porter, cioè la moda pronta, che tutti noi indossiamo e benvengano, ma anche le sarte da ricordare, perché sono sempre importanti, stanno proprio sparendo quasi come... Ma ce ne sono ancora, e forse le incontreremo anche con l'opinione moda. Per finire, tu hai detto, il lusso passa, la qualità rimane. Ecco, concludiamo con queste tue parole. Io ti cito, però sei tu che le firmi, vero? Allora, la qualità rimane e la qualità vale per tutti.